No, a Torino. Due anni mi sembra. Sì, col povero Don Salvatore. A Roma ci siete stato dopo per tanto tempo. Io mi ricordo quando arrivai all'istituto in settembre, voi l'avete partito allora, allora. Ti vieni ad andare via? No. Non mangi? No, è ancora presto. Oh, partite sempre tardi, ah, povero Miriam. Miriam? Ho detto, era senza nome e oggi l'ho battezzato. Ma è un gatto o una gatta? Un gatto. E dillo c'è a mi Miriam? Ricordi? Di quando eri in marina? Beh, ricordi. Capisco. Era veneziana o forestiera? Persiana. Persiana? Era bella? Meravigliosa. Ah. Una cosa così. Come? Era una gatta. Persiana ma gatta. Oh, la gattina di bordo l'ho capito subito. Eh, disfurbati, ah.